Siamo insieme quest'oggi al pastore Brian Paulson e al pastore Kevin Friedrich rispettivamente il membro della American Waldesian Society e pastore della Presbyterian Church of USA. Benvenuti, welcome. Un anno fa di questi tempi si parlava molto delle vicende di Ferguson in Missouri. È stato in realtà un episodio, ma non l'unico, di casi di violenza contro la minoranza o maggioranza in alcuni luoghi afroamericana negli Stati Uniti. Allora, la prima questione è questa. Dal vostro punto di vista, un anno dopo, quali sono le sensazioni a proposito di questo genere di fatti? La prima cosa che mi viene in mente è che sono cresciuto nella famiglia di un ministro di culto presbiteriano, per cui ho vissuto senza percepire l'idea di razzismo fino a quando ho compiuto otto anni e ci siamo trasferiti da nord a sud. Nel primo anno di vita a sud, ho sentito moltissime affermazioni e battute razziste a cui mi sono sempre opposto, ma ho notato che negli anni un elemento di razzismo è entrato nel mio cuore e nel mio modo di pensare. La vicenda di Ferguson mi ha reso più consapevole di quanto razzismo ci sia ancora, di quanto sia radicata la mentalità per cui, quando vedo uno straniero in un luogo pubblico, mi chiedo, è una minaccia? In particolare se si tratta di un grosso afroamericano, è una minaccia per me? Questo viene sempre da chiedersi. Spesso sarebbe più facile decidere che si tratta effettivamente di un pericolo. Anche se si è consci della sua esistenza, il razzismo gioca un ruolo importante nella nostra vita, anche nella vita di chi cerca di contrastarlo nei principi e nella pratica. Io sono certo di aver lottato contro le discriminazioni razziali per tutta la vita, ma dai fatti di Ferguson mi sono reso conto che negli Stati Uniti è rimasto moltissimo razzismo e che ci sia una componente pervasiva che non riusciamo a sconfiggere. Diverse volte negli anni, e in particolare dopo l'elezione di Obama, abbiamo pensato abbiamo superato il razzismo. Non è vero. Infatti, quando penso alla vicenda di Ferguson, penso che sia indicativa di un problema profondo e irrisolto che in realtà non ci ha mai abbandonato. Sono cresciuto nel sud della California e ricordo che mia madre mi mostrava in televisione alcune immagini provenienti dal sud del paese. Era una marcia di Martin Luther King e ricordo gli estintori aperti contro le persone nelle strade. Sono scene che mi sembrano molto lontane. Di quel periodo ricordo anche che mia madre mi aveva educato a contrastare il razzismo. La cosa più difficile da comprendere, riconoscere e interiorizzare è stato il fatto che abbiamo eliminato la gran parte delle leggi che nella sfera pubblica legittimavano il razzismo, ma non abbiamo cambiato il cuore delle persone. Ricordo che subito dopo i fatti di Ferguson avevo condiviso nella mia congregazione l'esperienza di un ragazzo afroamericano di Ferguson, molto eloquente, che aveva raccontato di quanto fosse difficile osservare il modo in cui un giovane bianco possa essere arrabbiato e possa essere ignorato, come se stesse soltanto sputando fumo. Ma se un giovane afroamericano prova un senso di sdegno razziale per via di un'ingiustizia, sarà subito considerato un criminale, un violento. Credo comunque che nella mia congregazione ci sia una comprensione molto chiara e precisa dei diversi sistemi di valore in seno alla nostra società e credo che sia utile avere un presidente come Obama, perché è in grado, dalla sua posizione, di comprendere meglio di chiunque altro cosa significhi vivere una vita in cui è molto facile che la polizia ti fermi, una vita in cui sei giudicato sulla base del colore della tua pelle. Stanno succedendo così tante cose in questo momento all'interno della leadership cristiana, ma anche in quelle delle altre fedi e in generale riguardo al senso di giustizia, che non possiamo perdere l'occasione per portare profondi cambiamenti nel nostro sistema. A Ferguson è successo in termini elettorali, anche perché la risposta della popolazione, che ha scelto di cambiare la propria guida politica, ha visto il supporto anche di molti importanti esponenti del Movimento per i diritti civili. È un buon esempio, ma è successo in un luogo in cui la comunità nera è molto omogenea. Diciamo che i problemi sono ancora moltissimi. Diciamo che c'è una questione significativa, nel senso che la questione raziale è molto presente a livello di società, ma ecco, a livello di chiese naturalmente il discorso si può anche estendere. Non è soltanto un discorso raziale, ma un discorso in generale di ultimi, di aiutare le minoranze, aiutare coloro che stanno più in basso. E allora, dal punto di vista delle chiese, la Presbyterian Church, ma in generale, poi tutto quel mondo di chiese protestanti è anche molto ampio a livello di denominazioni, quali sono le attività che possono provare a contrastare la questione raziale? Credo che una questione ancora più problematica di quella di Ferguson sia quanto accaduto quest'estate a Charleston, in South Carolina, dove un suprematista bianco è entrato in una delle nostre congregazioni, è stato lì per oltre un'ora, ha ascoltato uno studio biblico e infine ha ucciso in modo sistematico nove persone. Nel suo computer hanno trovato una foto di fronte a una bandiera suddista e un'altra che ha permesso di capire che la sua intenzione era proprio quella di uccidere dei neri. Ecco, questo fatto mi ha disturbato ancora più di quanto accaduto a Ferguson. Non sto dicendo che lì non sia accaduto un fatto grave, ma l'idea di andare a uccidere nove persone innocenti, tra cui un bambino, significa che la mentalità razzista è radicata in modo pervasivo nella nostra società, con una base che dobbiamo individuare chiaramente, come ho voluto fare dal pulpito. E un'altra cosa da capire è che abbiamo la responsabilità, come chiesa, di avviare un dialogo. La nostra congregazione è composta al 98% da bianchi, anche se il 55% dei nostri membri sono immigrati, nessuno è afroamericano e sono pochi anche gli ispanici o gli asiatici, ma noi abbiamo il compito di parlare apertamente con gli altri, prima di tutto per comprenderci a vicenda e dal pulpito ho detto anche questo, ma anche so che è un dovere contrastare il razzismo con tutte le forze. Mi rendo conto che c'è una componente razzista anche dentro di me, perché l'ho appresa dalla società ed è difficile non pensare in un certo modo in tutte le situazioni e con tutte le persone, per cui credo che sia urgente per la nostra congregazione avviare un dialogo con le chiese afroamericane vicine a noi, con le quali abbiamo già delle relazioni e con cui abbiamo già sviluppato dei progetti in passato, ma con cui non abbiamo mai stabilito un indirizzo preciso sulle problematiche legate al razzismo e alla sua pervasività. Ciò che dobbiamo fare come cristiani è un atto di testimonianza contro il potere del razzismo nella nostra cultura. A livello nazionale, il National Council of Churches si è focalizzato su ciò che chiamiamo incarcerazione di massa, cioè la pratica del sistema giudiziario di riempire le carceri in modo innaturale e oltre a questo ci siamo concentrati sulla pacificazione, in particolare in campo religioso. A livello locale, però, ho dovuto riflettere su questioni diverse. Questa è una radio e quindi quando parlo di Eminem dovreste sapere di cosa parlo, giusto? Bene. Allora, avete presente la famosa canzone che parla della 8 Mile Road, vero? Sono stato per un po' di tempo ministro di culto nell'area di Detroit e dovunque a sud della 8 Mile Road l'ambiente è problematico. In effetti, ora che la città ha dichiarato bancarotta, la polizia ti ripete sempre che se devi tornare a casa nei soborghi di notte devi seguire una direttiva. Keep going, don't stop, vai avanti, non ti fermare, ok? Questo perché non hanno personale a sufficienza per occuparsi dei problemi e ciò che ne viene fuori è un apartheid economico in America in diversi luoghi. Io, per esempio, vivo in un posto eccellente, ma se guardo la mappa nel North Carolina, che è uno dei paesi più ricchi degli Stati Uniti, vedo che ci sono moltissime sacche di povertà estrema vicino a me e ognuna di queste corrisponde a città maggioranza afroamericana o ispanica. Per cui la sfida per noi, come Chiese, è quella di trovare dei partner in questa comunità, congregazioni con cui collaborare, con cui costruire delle relazioni, non soltanto in senso paternalistico, perché per esempio siamo gemellati con una chiesa della zona sud di Chicago e mandiamo loro gli zaini per fare in modo che possano andare a scuola, ma sarebbe molto più utile invitare alcuni dei loro giovani per costruire relazioni con i nostri giovani, in modo da costruire un sentimento e un obiettivo comune. Penso che la sfida sia grande per una chiesa come la mia, relativamente segregata ma non per scelta. Noi accogliamo tutti, ma la maggioranza dei membri sono esponenti della classe medio-alta di origine europea o asiatica e questo è solo un esempio. Costruire relazioni genuine e stabili permette di far di più insieme. Per farlo però dobbiamo anche renderci conto che le disparità economiche promuovono un substrato di pregiudizi striscianti. Sì, naturalmente è una questione economica e politica come principali punti di aggancio, però vorrei provare a chiudere con un elemento positivo, ovvero c'è a livello nazionale o a livello di comunità locali una storia di successo che potreste prendere come esempio, come modello di qualcosa che effettivamente funziona per andare oltre i problemi che stiamo raccontando. Quello che ho scelto è uno degli elementi a cui accennava Brian. All'interno del nostro programma di attività estive, da tre o quattro anni, abbiamo organizzato come chiesa un campo calcistico giovanile. Abbiamo invitato i migrati centroamericani di una delle più grandi comunità della zona, che ha invitato quattro ragazzi. Inoltre hanno partecipato anche alcuni giovani afroamericani. Credo che il prossimo passo logico sia quello di rendere disponibili delle borse di studio, non soltanto per i giovani ispanici della zona, ma anche per gli studenti afroamericani. Il vantaggio è che mercoledì sera della settimana di campo abbiamo invitato le famiglie dei ragazzi e ci siamo seduti tutti quanti insieme a tavola per chiacchierare. È un'iniziativa che organizziamo proprio per questo, per fare in modo che ognuno veda l'altro come il padre o la madre di un calciatore e non come un bianco, un nero o un ispanico. Penso che sia un modo molto semplice di concentrarsi sul problema e di cominciare a costruire ponti tra individui e comunità, aiutando allo stesso modo la Chiesa a costruire ponti con i diversi gruppi etnici presenti nella comunità. Intendi in termini di progetti a cui partecipa la Chiesa? Penso che una delle congregazioni a cui ha preso parte Daniela Di Carlo durante il suo programma di quest'anno sia un buon esempio di Chiesa multiculturale, simile ai progetti di essere chiese insieme in Italia. Qui abbiamo comunità miste di immigrati, afroamericani, americani di origine europea, tutti insieme in modo equilibrato. Penso che sia un esempio originale, penso che abbia grande potenzialità nel creare collaborazioni. Per esempio abbiamo costruito una collaborazione simile con la Chiesa a cui apparteneva il Presidente Obama, la United Church of Christ di Chicago, con cui condividiamo alcuni ministri di culto e alcuni progetti. Fra le varie attività stiamo cercando di migliorare la qualità del cibo e delle comunità, in cui le scelte sono poche, e per questo stiamo investendo sugli orti urbani, attirando numerosi movimenti ambientalisti e di agricoltura urbana nella Chiesa e intorno alla Chiesa. È un'avventura di cooperazione nella quale le persone si possono impegnare in modo concreto, materiale, parlando e svolgendo il proprio lavoro al meglio. È una buona pratica, ma penso che uno dei grandi problemi rimanga il risolto, quello per cui in quelle comunità succede spesso che, per esempio, un controllo della polizia finisca male, perché parliamo di situazioni in cui il governo ha così poche risorse da obbligare gli agenti a fare cose che normalmente non farebbe mai. Ancora una volta, la disparità economica viene fuori. È una sfida che dobbiamo accettare. Dobbiamo nuotare contro questa corrente. Grazie mille per la vostra disponibilità. Grazie a Kevin Frederick della Presbyterian Church of USA e grazie a Brian Paulson della American World Asian Society. Thank you. Mi piacere, mi piacere. Thank you. Grazie a tutti.